Fiera Agricola di Verona è da 120 anni il punto di riferimento per tutto il mondo agricolo italiano internazionale. All'avanguardia nell'innovazione incubatrice di idee e progetti per il futuro dell'agricoltura, ha presentato a Rende, presso l'Università della Calabria, le novità e le opportunità offerte alla nostra regione per l'edizione 2018. Nella quarta tappa del Roadshow, organizzato da Mediacom di Verona, società partner del tour, è a cura dell'area manager di Fiera Agricola con il dottor Luciano Rizzi, che ha presentato anche i nuovi settori di meccanizzazione e zootecnia, si è discusso del futuro dell'agricoltura della Calabria, tra eccellenze, tradizione e innovazione. All'incontro sono intervenuti Lorella Barca, responsabile di Cosenza dell'Istituto di Zooprofilassi Sperimentale del Mezzogiorno, Fulvia Caligiuri, presidente dell'area territoriale di Cosenza, che ha posto l'accento sul comparto agricolo, che non deve essere più considerato come mondo bucolico, ma una vera e propria impresa agricola, parte integrante dell'economia di questa regione. Punto messo in risalto anche dal dirigente generale vicario del Dipartimento Agricoltura, Giacomo Giovinazzo, che si è soffermato sulla qualità delle nostre produzioni, che annoverano 14 prodotti a marchio garantito DOP e IGP, e più di 250 prodotti tipici tradizionali. E sono proprio queste eccellenze le diverse realtà imprenditoriali a dare impulso ad un settore trainante su cui la regione sta puntando attraverso il PSR, Piano dello Sviluppo Rurale. Il PSR è lo strumento a supporto di un'agricoltura che è già ricca. Non dobbiamo dimenticare che comunque la nostra agricoltura è un'agricoltura produttiva che dovrebbe abbandaggiarsi e l'effetto incentivante del PSR, ma tantissime aziende stanno sul mercato con grande capacità, il PSR può dare praticamente l'input positivo per dare quell'abbrivio anche di costruzione di rete che serve alle moderne imprese agricole. Le conclusioni dell'incontro sono state affidate al consigliere regionale Mauro Dacri, che ha iniziato subito mettendo in evidenza l'importanza della presenza degli studenti dell'Istituto Superiore Mancini Tommasi di Cosenza, definendo i giovani il punto di partenza per rilanciare realmente l'agricoltura in Calabria. L'importanza della manifestazione di oggi è dove Fiera Verona ha scelto per secondo anno consecutivo di far tappo in Calabria e presentare questa iniziativa importante. Quindi ha detto che ci stanno tanti prodotti, quindi che la Calabria ha tante possibilità, quindi veramente di emergere. Hanno detto e hanno citato che noi abbiamo oltre 300 prodotti tipici, di questa biodiversità può essere veramente un valore aggiunto per la Calabria. Quindi c'è una sintonia tra noi e loro. Poi queste fiere, questi appuntamenti sono importanti perché mettono a confronto la varia agricoltura, quindi l'innovazione che stanno sul settore.